Non ignoriamo e non sottovalutiamo l'energia che questa provincia ha e le opportunità che può cavalcare a livello di globalizzazione. Bene, ora Corrado Passera, consigliere delegato e CEO di Intesa San Paolo, dialogo a consigliere con Sebastiano Barisoni, caporedattore News Radio 24, Il Sole 24 Ore. Grazie, grazie. Va in questa direzione, una cosa che sempre più potrebbe venire utile anche alle aziende comasche, noi abbiamo deciso di creare un centro per l'internazionalizzazione, è basato a Padua, ma poi c'è in tutta Italia con le sue diramazioni, proprio per creare facilità di contatti, ponti tra mercato italiano e mercato dei vari paesi difficili. Ecco, naturalmente però la spinta, la cosa, l'energia, la dimensione può venire soltanto dalle imprese seguendo le regole di Verga, su cui dopo per lo dobbiamo tornare. Assolutamente. Per incisione. Numeri belli qui a Como in questo momento si vedono, l'idea che negli ultimi 12 mesi il credito a breve cresca al 14-15%, quindi ben oltre il tasso di crescita dell'economia nel suo insieme e che anche quello a lungo termine, che in molti parti d'Italia non sta crescendo, anche qui si ha quasi a due cifre e quindi vuole dire investimenti dietro a questi finanziamenti, sono segnali belli, poi bisogna fare di più e certe volte si fanno errori, però se c'è uno in paese, e siamo in pochi, l'Italia sta con il Canada, con l'Australia, con alcuni paesi del nord, che attraverso la crisi sono passati senza chiedere soldi ai governi, senza quindi gravare sui cittadini, mai venendo meno all'attività di credito, questo è il nostro paese, quindi è una delle cose di cui possiamo essere abbastanza contenti. Lei come c'è da banchiere, nella relazione del Presidente Verga, e traendo spunto da quella, lei da comasco, perché di solito chi gioca in casa può permettersi anche un livello di critica un po' più alto, lo dico per le esperienze, perché se non avendo tacciato si rischia un po' di più perché gioca in casa, però tiene famiglia, però può permettersi un livello di critica un po' più alto, che cosa traendo spunto dalla relazione di Verga lei condivide in pieno sulla capacità e anche lo sforzo fatto a Como, e però anche che cosa si può aggiungere come critica costruttiva, stimolo, pungolo, vuole dire critica tu pur, alle imprese. Come dicevo dai suoi colleghi prima che entrassimo, che erano molto negativi, proprio a Como non ci fa niente, stiamo perdendo tutte le… Ma questi giornalisti sono sempre negativi, naturalisti? No, 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 non è vero, c'è del buono e del cattivo come in banca e come nelle imprese, però insomma, quella domanda era molto negativa, anche quello che un po' è venuto fuori dal discorso di Verga è che non è che a Como non succeda niente, succede niente, i numeri delle imprese e del credito che vi potevo dare come vi ho dato prima, il fatto che alcune grandi cose, adesso non sarà direttamente Comasco, ma l'autostrada in Milano-Como è una cosa importante, il pedale è stato fatto, l'università è una realtà, dei progetti come Comunext sono arrivati in fondo, adesso il polo logistico è un bel progetto da spingere, Villa Erba che sta prendendo una nuova conformazione con un po' più di energia dentro, è un bel progetto, quindi non è vero che non c'è niente, poi ci sono questi simboli del non fare, questi simboli della tristezza, insomma la Ticos, il lungo lago, la tremezzina che non si riesce a passare verso certi paesi che dicono ma è possibile che cose veramente alla nostra portata non vengono realizzate? Detto questo, come dice Verga è un tema di lavorare insieme perché poi per fare crescita ci vogliono le imprese, il sistema intorno alle imprese, il sistema paese, la formazione, facciamo che come siamo, per esempio il primo posto dove si fanno gli istituti tecnici superiori che sono lo strumento più formidabile del sistema formativo tedesco che noi non abbiamo, perché uno finisce l'istituto tecnico e poi deve ricominciare da capo su altri binari in università che è la maniera per buttare via quello che ha fatto e per frustrare in talunni casi anche il modello in cui uno si è formato, quindi formazione, sistema della giustizia, sistema della giustizia, non ci vogliono i fantasmi miliardi, bisogna avere il coraggio di affrontare quelle dieci cose che bloccano di fatto il sistema della giustizia sia civile che penale, perché non dimentichiamoci che siamo un paese che non riesce a portare in fondo i processi, il 70-80% finiscono in prescrizione. Io veramente potrei andare avanti per ore ma mi farei un abuso a Dottor Passaro, un abuso alla sala e quindi smetto di abusare, ringrazio il Corrado Passaro, grazie anche se fate un applauso applauso